Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino e da Luca Biscardi, siamo qui con un attimo di calma, come vedete abbiamo il tavolo, le piante, tutta la baradante, le zanzare, e a parte questo siamo qui appunto per realizzare un contest, come si diceva appunto si realizza il contest su HTC One nella durata appunto di circa una mensilità, ed è un pezzo che non facciamo un contest sepio, così siccome alcuni di voi ci hanno posto la domanda su come mai appunto non ne facessimo altri, facciamo il contest su HTC One e Galaxy S4 o o. le modalità come le varie informazioni, come il regolamento ovviamente saranno facilmente reperibili nel link sotto al filmato, il vincitore essenzialmente si porterà a casa a scelta o la HTC One o il Galaxy S4, di base, sia chiaro, per quanto riguarda appunto le regole di base ve le diciamo appunto, le scriveremo così da rendere chiaramente. Abbiamo visto che siamo sulle 3 migliaia circa di iscrizioni abbondanti, le unità sinceramente non le ricordo, di base comunque aggiungiamo, come abbiamo sempre fatto, quindi partiamo da una base vigente nel momento in cui il filmato va online e dopodiché aggiungiamo, facciamo 5.000? Direi di allinearci le altre volte, sì, di allinearci le altre volte, è più o meno sempre quello, quindi basandoci essenzialmente sul controvalore delle campagne stanta che si possono fare tramite Google, AdWords, HardSense e tutto il resto della compagnia cantante, andiamo appunto a equivalere 5.000 clic su un qualunque bannerino, appunto a 5.000 clic sul tasto iscritti per il canale YouTube, facciamo una cosa molto semplice. Dovranno esserci appunto 5.000 utenti iscritti in più rispetto al momento di partenza e se volete partecipare, avere più chance per partecipare, ovviamente vi si consiglia di mettere preferito come video, di spolliciare, eccetera eccetera, essenzialmente potete lasciare uno o più commenti, quindi alla fine noi andremo ad estrarre il vincitore che dovrà essere iscritto al canale, questo è un requisito sine qua non, dopodiché andremo appunto ad aggiungere ai 5.000 più 3.000, saranno 8.000 abbondanti iscritti finali, tutti i commenti che andate ad inserire, quindi se inserite 10 commenti verrà contato la vostra iscrizione più i 10 commenti che lasciamo. L'estrazione ovviamente sarà realizzata con suadeo.ch che fa il check automatico per quanto riguarda l'iscrizione. Come avete visto lo stiamo già utilizzando da tempo, da diverse istrazioni anche per i contest brevi, quindi ci è sembrato funzionante. Funziona, c'è stato un caso in cui ha dato errore, diamo a Cesare e quello di Cesare, abbiamo contattato lo sviluppatore, ha sistemato il problema ed è ritornato funzionante, tanto che l'ultima estrazione è stata una doppia estrazione per un paio di prodotti color master. Detto questo, sull'ACC1, il Galaxy S4 come conto se vi ho detto che per tutte le informazioni dettagliate, noi ovviamente vi abbiamo dato le informazioni generiche, tutte le informazioni dettagliate, quali che righe più rispetto a quelle che vi avevo menzionato, saranno riportate nel regolamento linkato sotto al video e ovviamente andrà a richiamare un'articolo su Formobiles. Direi che lo possiamo chiudere così, brevissimo, giusto come riempitivo, metteremo in paio queste cuffiette qui, sono delle cuffiette appunto di House of Marley, delle cuffiette che abbiamo già recensito, in questo caso dotate di microfono, comunque vi faremo appunto un contest diverso. Per queste cuffiette ovviamente le regole saranno ancora più semplici. molto più breve, sì esatto, e per quanto riguarda appunto le cuffiette saranno messe essenzialmente in paio, semplicemente commentando il relativo filmato. Detto questo è tutto, mi raccomando leggete il regolamento perché è una cosa essenziale e dopo aver letto ovviamente il regolamento, se vi fa piacere potete partecipare in maniera libera. Vi si richiede essenzialmente di risiedere sul suo italiano così quando rimaniamo la raccomandata, la raccomandata è appunto tracciabile e ci permette di avere la massima trasparenza. L'estrazione ovviamente avverrà sempre con il filmato integrale del momento di distrazione senza tagli e in modo tale da appunto avere la massima trasparenza. Quindi così francamente non penso si possa aggiungere. Se vi restano dubbi, domande e curiosità, come sempre siamo a vostra esposizione, intanto vi si saluta, vi si ringrazia e vi si invita a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e i canali social, li abbiamo attivati per voi, siamo sulle principali piattaforme, siamo su YouTube, VidiMotion, Twitter, Facebook, veramente, cioè li abbiamo attivati per voi così da rimanere facilmente aggiornati su quel che pubblichiamo per voi e tempestivamente e facilmente poi anche in contatto se vi vengono dubbi, domande o curiosità. Ora è tutto, grazie, ci si vede online, un saluto da Giuseppe Ragozzino e da Luca Miscardi. Ciao! Mi raccomando commentate e iscrivetevi. Ciao! Grazie a tutti!